Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di meteo in Calabria. Dopo il breve e temporaneo peggioramento di ieri, le condizioni meteo tornano a migliorare. Il nostro paese, nel fine settimana, si ritroverà influenzato dall'alta pressione che avanza da ovest e da correnti fredde che scivolano sui Balcani. Pertanto è lecito aspettarsi un tempo tutto sommato bello ma con temperature fredde e tipicamente invernali. Andiamo ora a dare uno sguardo alle previsioni in dettaglio. Venerdì ancora un po' di nubi, specie sui monti e sui versanti ionici, dove non si escludono deboli e residue precipitazioni, temperature massime in calo. Sabato sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo qualche addensamento sulla Spromonte, dove non è da escludere qualche fiocco di neve, temperature in calo e su valori tipicamente invernali. Possibili gelate al mattino nelle valli interne. Diamo ora uno sguardo al comportamento di mari e venti. Venerdì poco mosso o mosso il tirreno, mosso o molto mosso lo ionio, venti deboli o moderati di tramontana. Sabato mari calmi o al più poco mossi con venti deboli o più moderati da ovest nord ovest. Bene, prima di chiudere vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.metoincalabria.it e la nostra pagina facebook all'indirizzo facebook.com slash metoincalabria, dove potrete interagire direttamente con i ragazzi dello staff di Meto in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.